magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale finalmente vi porto il video della mia fanta squadra su fanta campionato di gazzetta in tanti mi avete chiesto ma perché non porti una squadra perché non porti una squadra io vi avevo fatto un video in cui vi avevo chiesto 500 like appena sono arrivati sono qui per portarvi una ipotetica squadra per fanta campionato mi raccomando di guardare il video fino all'ultimo perché andrò a dirvi tante chicche su fanta campionato quindi non guardate solamente i nomi e poi schippate il video altrimenti ve le perdete mi raccomando come sempre un grandissimo like e le iscrizioni al canale ragazzi cose gratuite ma fondamentali come gratis giocare al fanta calcio di regosto c'è il link in descrizione un link di fanta club se voi ci cliccate andate direttamente a creare la vostra squadra su fanta club vi ho messo un trofeo di quelli là dietro ve ne aggiungerò altri due per il secondo e terzo ci saranno altri gadget però ragazzi se arrivano le iscrizioni cioè è gratis siamo ancora 160 iscritti siamo quasi 14 mila su questo canale do cavolo siete ragazzi do cavolo siete andiamo a iscriverci una cosa carina per sostenere il canale per sostenere tutto il mio lavoro e anche abbonarsi qui su youtube si parte da 099 mentre sulla piattaforma viola potete abbonarvi gratis se avete amazon prime se non sapete come collegarlo c'è anche il link del gruppo degli iscritti al canale c'è l'idea che vi spiega tutto è un'altra cosa per gli abbonati a partire da 2 euro e 99 qui su youtube o per chi lo fa sulla piattaforma viola ci sono tantissimi vantaggi tra cui gruppo telegram fanta calcio anche per abbonati o meglio c'è un fatto a calcio solo per abbonati uno solo per gli iscritti in cui la ovviamente ci sono anche tantissimi regali in più come 500 euro di buoni altra cosa potete già andare a scaricare le fasce sia tutte le fasce classic sia le fasce mantra che sono solo per gli abbonati di youtube e in cui ci sono 100 nomi migliori divisi per ruolo al mantra e come potete scaricare anche tutti gli altri file quindi per chi sostenesse il canale può avere anche tante tante ricompenze ma ora andiamo a vedere la squadra ma lasciamo i like perché se lasciate tanti like ci sarà un'altra sorpresina per voi altra cosa ragazzi da lunedì cominciano le aste in live con gli abbonati lunedì andremo a fare un'asta mantra a 10 random totale sul listone mentre in quello dell'8 del 9 sempre aste a 10 ma classic con modificatore della difesa allora ragazzi io ho fatto questa ipotetica questo ipotetico 11 un carne secca in porta a 27 crediti ci ho messo anche musso in punk poi in difesa sono andato un po a risparmio perché è vero che sono 500 crediti ma è vero anche che se vai a metterci ternandez e quant'altro non c'è non ce la fai poi a finire una squadra e allora sono andato a mettere tutti i nostri talentini martin christensen beuchema che hanno sicuramente un rapporto che da prezzo ottimo e poi ci ho aggiunto bellanova bellanova lo aggiungo per tanti motivi uno è un giovane interessante è vero che ancora deve migliorare in tante cosette però c'è torino cagliari subito da ex magari magari parte di dolare e può far bene centrocampo ho fatto una cosa un po diversa di solito cerco di andare a risparmiare lì però su fantacampionato mi sento di metterci uquezze 40 crediti un attaccante che mi può fare assist e gol ce lo metto poi ci ho messo frattesi giocatore che ne parlo bene da due anni a 38 magari rispetto a un barella che costa 49 crediti lo preferisco perché secondo me 11 crediti differenza tra frattesi e barella non ci sono e poi ragazzi like ragazzi like e poi c'è federico chiesa listato centrocampista per me tanta roba l'ho visto già bene in questi amichevoli lo vedo carico lo vedo che può tornare il federico chiesa dei tempi migliori secondo me l'infortunio e alle spalle o almeno me lo auguro l'anno scorso sicuramente partiva handicap perché sapevamo già che tanti mesi non ci sarebbe stato quindi è una cosa diversa e io chiesa a 44 crediti proprio a metterlo poi davanti sono andato con due top osi men in frosinone napoli secondo me non si può fare a meno di averlo e poi ho messo rafaleao uno che è vero che costa 75 ma se andiamo a vedere un po gli attaccanti non è che ci sia tantissimo a meno perché tra leao e berardi non risparmiamo nulla quindi doveva andare a mettere il migliore e per me leao è quello che mi ha più garanzie e poi ci ho messo look man che magari ci saranno anche tante voci di mercato sull'atalanta ora che dovrebbe essere quasi ufficiale pesca macca però a 54 crediti look man è interessante perché se andiamo a girare un po qui il listone non è che ci sia tantissimo quindi come rapporto qualità apprezzo è interessante mi intrigava anche reteghi per la prima però sicuramente look man mi dà più certezze aspettate ragazzo vi faccio vedere la panca lasciamo i like e poi vi dico delle cose fondamentali per chi vuole fare una buona rosa su fanta campionato allora nel centro campo io ho messo fabian fabian addirittura potreste metterlo anche come titolare cioè potreste utilizzarlo magari al posto di un frattesi sicuramente risparmiate 23 crediti che potreste andare a investire su un altro attaccante top su un difensore che vi aggrada di più ecco o su alcuni su un portiere magari anche più forte di carne secca o quantomeno per una porta più affidabile perché a me carne secca piace tanto questo fabian è un jolly che può andare anche titolare tanto ormai è fatta per fabiana all'udinese poi ci ho messo rafia del lecce a 12 tanta roba per me sarà un titolare indicatore che ci può portare bonus è uno affidabile poi occhio occhio a quello che costa due crediti ragazzi quello che costa due crediti folo ruscio è ancora il napoli ma sappiamo già che dal napoli non resterà se va a giocare una squadra di serie a che ve lo dico a fare da prendere assolutamente e vi dirò se vai in una squadra interessante tante volte potremmo anche buttarlo dentro poi il centro campo si completa con corfizzen del lecce che un bel giovane e pt del bologna e poi in difesa invece vado su zanoli ovviamente anche lui se si muove dal napoli perché ora il dubbio c'è onestamente altrimenti poi si faranno altre scelte e romagnoli del frosinone perché dovrebbe essere un titolare a 9 ci dà copertura ed è l'unica cosa che cerchiamo poi vado su matturro del genoa che un nome a uno interessante e d'orgu che ne ho parlato veramente tanto e bene su questo canale grazie vi dicevo al nostro amico leccese alessandro che me l'ha segnalato e quando guardate i video mi ha convinto veramente tanto davanti invece ragazzi la cosa che dovete fare è mettere attaccanti a un credito perché questo perché su gazzetta c'è il cambio modulo quindi qualora non giocasse luckman io preferisco avere prima in panca magari così un un fabian o un folorusio a subentrare piuttosto che mi entri un attaccante che magari mi fa 15 minuti e mi prenda voto bene ragazzi siamo giunti alla fine di questo video ora vi dico le cose più importanti però su fantacampionato dovete giocare 4 3 3 vedo tantissimi che fanno il 3 4 3 ragazzi è sbagliato ve lo dico subito quel punto a partita che vi dà il modificatore è fondamentale un punto per 38 giornate sono 38 punti poi il quarto difensore cosa vi dà però anche abbiamo messo per 38 giornate un punto magari due giornate non fai manco un punto di modificatore quindi sono 36 ma almeno due giornate andrai a fare tre punti invece di uno due non dico assai saranno almeno 5 se fai una buona difesa ma dico due quindi mettiamo due giornate fai più tre e sono sei punti mettiamo che altre 34 fai un punto sono 34 dentro 36 sono 40 punti e due non facciamo nessun punto hai fatto 40 punti di modificatore sto benedetto quarto difensore però lo farà qualche assist qualche gol non mettiamo grosse cifre due gol so sei punti so 46 punti un assist 47 un quarto difensore ci può portare due gole un assist direi di sì 47 punti un quarto centrocampista che vi porti 47 punti cioè se fossero stati facciamo che erano 48 diviso tre che sono il più tre per un gol di un centrocampista dovete trovare un centrocampista che vi fa 16 gol o meglio dai diciamo che il centrocampista ha una media voto migliore vi porterà tre punti in più di media voto quindi facciamo 45 diviso 3 15 gol dove lo trovate un centrocampista quarto quarto della vostra squadra perché i primi tre li mettete comunque nel 3 4 3 che vi porti 15 gol ora capite perché dovete utilizzare il 4 3 e non il 3 4 3 questa è una cosa ragazzi che vale per tutti i fantacalci dove c'è un modificatore anche solamente a tre fasce come su gazzetta poi a sei fasce non ne parliamo perché parliamo di 60 punti detto questo occhio a tante dinamiche che ora vi andrò a spiegare la prima in porta io ho messo carne secca a 27 però musso costa 2 ora io la mano sul fuoco che alla prima giornata ci sia carne secca in porta non ce la metto se poi mi dite quanta percentuale magari c'è che giochi carne secca vi dico 65% e 35 però a musso lo lascio quindi occhio occhio perché se gioca a musso a 2 sarà una grande plus valenza altra cosa occhio a beriscio a 1 perché milinkovic savici si è fatto male se il toro non prende un portiere qualcuno dovrà giocare al suo posto da un credito e quello dobbiamo andare a metterlo sicuramente in squadra indipendentemente da tutto questo occhio magari agli infortuni perché se si infortuna un portiere titolare il secondo dobbiamo andare a prenderlo risparmiamo magari quei 27 crediti di carne secchi e quei crediti li andiamo ad utilizzare in un altro reparto che vogliamo andare a rinforzare sulla difesa secondo me potrebbe andare anche bene così poi ovvio se riusciamo a tirare fuori dei crediti magari dal portiere si possono andare a investire in un altro reparto altra cosa sulla difesa io sono andato a mettere quei giocatori alla fabian alla foloruscio alla rafia in difesa c'era cacace a 13 che non ho messo ho messo a 12 zanoli a 9 romagnoli ma se escono altri giocatori sicuri titolari che magari anche costano 5 6 crediti andiamo a inserirli perché all'inizio dovete fare plus valenze per aumentare il valore della vostra rosa per poi magari fra 6 7 giornate riuscire a fare una squadra ancora più forte perché nella mia davanti c'è lukman c'è leao però magari non lo so esplode un immobile costa 86 adesso esplode un martinez che fa caterve di gol però ci vogliono 88 crediti è ovvio che li avrei voluti mettere magari in squadra però i crediti sono sempre 500 quindi iniziamo a fare una squadra equilibrata tra i titolari ma anche ottima in panchina per le plus valenze quindi queste sono un po le regole aurea diciamo del fantacampionato mi raccomando di sostenere questo video con tanti like iscrizione al canale perché porterò sempre contenuti sia per i fantacalci all'istone che per i fantacalci ad asta sta per arrivare un video su un giocatore eccezionale quindi mi raccomando di iscrivervi al canale così non ve lo perdete e vi ricordo di andare a riguardarvi tutti i video ve li lascio qui sopra ragazzi sono usciti i video sia per i fantacalci all'istone tutti messi in delle playlist sia per i fantacalci ad asta ho portato tanti format diversi quindi mi raccomando di sostenermi e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi